Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura una buona notizia, non è positivo al coronavirus il 17enne di grado che è rimasto in Cina, lo confermano fonti della Farnesina, il giovane che non era potuto partire assieme agli altri italiani rimpatriati ieri perché con la febbre era stato sottoposto al test appunto per verificare l'eventuale contagio. Non preoccupatevi, sono seguito molto bene, si vede che doveva andare così, dovevo fermarmi ancora un po', queste le parole del 17enne durante un collegamento via Skype con i genitori a grado. Lo studente del sello di Udine in Cina per un soggiorno di lungo termine grazie al programma Intercultura era rimasto a terra, lo ricordiamo perché appunto gli era stata trovata una temperatura corporea di 37.7 verificata sia dalla parte cinese sia dai medici italiani giunti a Wuhan per il rimpatrio. Il test fatto stamattina in un ospedale universitario della città cinese ha dato quindi esito negativo lasciando aperta la più rassicurante opzione della febbre da raffreddore. Attualmente la Farnesina è a lavoro per poterlo riportare in patria il prima possibile mentre sono in corso riunioni operative a vari livelli in tal senso. Il ragazzo è attualmente in un hotel di Wuhan e in collegamento diretto sia con i genitori sia con la protezione civile il vicepresidente e assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi che stasera sarà uno dei protagonisti del nostro speciale dedicato al coronavirus con diversi ospiti in studio. Tra l'altro avremo anche un rappresentante della comunità cinese del fluo di Venezia Giulia ma avremo anche in collegamento da Shanghai Jacopo Luci che è il presidente del fogolar Furlan della città cinese e poi avremo anche il dottor Matteo Bassetti da Genova che ci illustrerà, ci farà il quadro aggiornato della situazione. Ultimo aggiornamento saranno rafforzati sensibilmente i controlli del personale medico sanitario in tutti gli aeroporti e porti italiani. A Roma Fiumicina stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi. La decisione è stata presa nel corso della riunione di stamani della Task Force Coronavirus 2019 del Ministero della Salute alla presenza del Ministro Roberto Speranza assieme alla Protezione Civile Nazionale. Dicevamo dell'appuntamento di stasera allora una piccola anticipazione con il dottor Bassetti che sgombera il campo dai gufi, da chi mette appunto l'emergenza su un piano superiore a quello che ne necessita. Ascoltiamolo. Abbiamo in collegamento con noi via Skype da Genova il dottor Matteo Bassetti e con lui andiamo a fare il punto della situazione grazie alla sua competenza e l'esperienza maturata in questi anni su un tema, quello del coronavirus, Bassetti che l'ha vista nei giorni scorsi fare delle dichiarazioni ben precise. Ha detto no ai gufi, stiamo attenti a non esagerare perché l'influenza fa più morti del coronavirus. Sì esatto, c'è tanta gente che parla ma dobbiamo guardare i numeri secondo me perché questo è l'unico strumento che abbiamo per capire veramente da che parte andiamo. Allora oggi se sono vere le statistiche dove si parla di 80 mila, qualcuno dice 100 mila casi complessivi, ebbene comunque i morti rimangono 350. Quindi vuol dire che se consideriamo i casi confermati ovvero i poco più di 20 mila abbiamo una mortalità intorno al 2%. Se consideriamo il totale cioè dei casi confermati che sono evidentemente quelli più gravi, più i casi totali che sono anche quelli meno gravi che rimangono a casa loro, la mortalità è intorno allo 0,2-0,3%. Quindi abbiamo una mortalità che è in linea con quella di una epidemia influenzale abbastanza aggressiva. Quindi è chiaro che io non voglio sottovalutare il fenomeno, ma voglio riportarlo nella giusta dimensione, nella giusta collocazione. Appuntamento dunque questa sera, una puntata da non perdere quella per gli speciali del Tg di Udinese TV a partire dalle ore 21. Continuiamo con la cronaca in regione, una serie di incidenti verificati sin mattinata, il primo attorno alle 8 in comune di Carlino per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di San Giorgio di Nogaro e della compagnia di Latisana. Intervenuti sul posto per rilevare la viabilità si sono scontrati un furgone Renault e una lancia Ypsilon. Il camioncino si è ribaltato su un fianco mentre la macchina è finita a bordo strada. Nell'impatto sono rimasti feriti il conducente del furgone, la donna che si trovava alla guida della vettura. Lesioni anche per una bambina di 9 anni che viaggiava sulla lancia con la mamma. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze, le tre persone coinvolte tutte della zona sono state trasportate in ospedale, non sono in gravi condizioni. L'incidente di cui vedete le immagini si riferisce invece allo scontro accaduto sempre in mattinata ad Azzano Decimo, due le vetture coinvolte e un furgone lungo la strada regionale 251 tra l'abitato di Corva e quello di Azzano Decimo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi mentre per gli occupanti non sono servite le cure dei sanitari. Presente la polizia locale di Azzano per i rilievi del sinistro. I pompieri di Maniago invece assieme alle squadre del SAF provenienti dalla sede di Pordenone con le foto elettriche sono intervenuti nella tarda serata di ieri per soccorrere un cane, un setter dal pelo bianco rimasto bloccato in una cengia del monte Raut. Durante una battuta di caccia l'animale si era allontanato dal proprietario che lo ha completamente perso di vista e forse in seguito ad una caduta è rimasto bloccato su di una parete esposta dalla quale non era più in grado di scendere. Solo dopo 5 giorni di ricerca il proprietario attirato dal campanaccio che il cane aveva al collo è riuscito a scorgere l'animale. I vigili del fuoco attivati per il soccorso hanno dapprima illuminato l'area con le foto elettriche e si sono avvicinati all'animale seguendo un sentiero più alto e poi in calata su corda lo hanno raggiunto, imbragato e calato tra le braccia del proprietario. Malgrado i 5 giorni lontano da casa l'animale era stanco ma in buone condizioni. Andiamo a Trieste ora per il provvedimento adottato ieri dal Consiglio regionale sull'ufficio immigrazione della Questura di Trieste, un intervento chiesto da tempo che però non è mancato di sollevare diverse polemiche in aula. Vediamo. La Questura di Trieste ci aveva lanciato un allarme. Purtroppo l'ufficio immigrazione che attualmente gestisce la Questura di Trieste si ritrova solo accaricata di un enorme lavoro essendo rimasta l'unica nell'area Giuliana e Zontina a far fronte al problema dell'immigrazione. Ovviamente sono noti a tutti i problemi di quella Questura, i problemi delle lunghe file verso quell'ufficio ed è il caso sicuramente che si faccia finalmente, si dia finalmente una soluzione a questo problema che non è un problema di adesso, è un problema antico. Se già nel 2017 l'allora Questore Lavigna aveva pronunciato un grido d'allarme nell'identificare un altro luogo dove più propriamente si potesse portare l'ufficio immigrazione anche non soltanto per far fronte al problema ma anche per avere un adeguato posto dove i dipendenti potessero lavorare nel miglior modo possibile. Il nostro parere è stato di astensione perché se riconosciamo la necessità di intervenire come già avevamo fatto nel 2018 a favore della Questura di Trieste per i suoi problemi non ci sembra che fare una legge specifica sia lo strumento giusto ma soprattutto sia un provvedimento urgente perché non si è agito già a giugno 2019 quando è stato sollecitato dalla Questura stessa all'intervento. Ce ne sono state molte leggi che potevano portare a questo risultato. Oggi dopo un'estenuante discussione arriviamo a che la maggioranza non sa nemmeno se il luogo è quello giusto per cui sinceramente un'astensione perché non siamo d'accordo su questo modo di procedere con le leggi mentre potevano essere fatti dei provvedimenti amministrativi. Viene destinato un milione e mezzo per la Questura e l'Ufficio Immigrazione, un problema sul territorio per rendere quegli spazi, per trovare un ufficio più adeguato come spazi e anche come sicurezza. Ricordiamo i recenti fatti di cronaca, di triste cronaca che hanno investito la città. Credo sia un atto necessario, dovuto, l'amministrazione regionale ha trovato un milione e mezzo, l'ha reso disponibile, era il momento di intervenire in questo momento con uno strumento legislativo per cominciare a risolvere il problema senza aspettare ancora. Poi ci saranno le consultazioni, le decisioni della Questura, si deciderà dove va questo ufficio, ma era necessario iniziare per dare una risposta agli agenti e ai cittadini che usano la Questura. Ed ora siamo pronti ad aprire uno dei nostri primi collegamenti di giornata con Monica Nardini. Andiamo nella sede della Lilt per raccontarvi il programma delle iniziative per un periodo molto particolare. A te Monica. Sì, ben ritrovato Davide e anche i nostri telespettatori. Ci troviamo nella sede della Lilt perché oggi è la giornata mondiale contro il cancro, promossa dall'Unione Internazionale contro il cancro, un'organizzazione non governativa a cui aderisce anche la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ci troviamo nella sede di Udine perché proprio in una giornata come questa è importante, si ritiene molto importante rilanciare l'appello alla prevenzione contro i tumori. Sono in compagnia con Libero Grassi, membro del Consiglio Direttivo della Lilt di Udine, dunque buongiorno, grazie di essere qua. Innanzitutto partiamo da ciò che vede la Lilt qua sul territorio. Quali sono alcuni dei tumori più diffusi? I tumori più diffusi sono i tumori del polmone, del seno, prostata, cavo orale e soprattutto pelle, melanomi e altri tipi di tumori sempre della pelle. La Lilt in una giornata come questa appunto lancia una perla per la prevenzione perché dice prevenire si può e guarire eventualmente si può sempre di più. Sì, soprattutto prevenzione primaria sugli stili di vita, sulla alimentazione, sull'attività fisica e dopo prevenzione secondaria, invece visite mediche di prevenzione e dopo facciamo anche prevenzione terziaria sull'assistenza psicologica, soprattutto ai malati a parte del tumore o in terapia per i tumori. Quali sono alcuni dei comportamenti che mettono più a rischio la popolazione sul fronte appunto delle abitudini quotidiane, quelle per cui rimarcate l'importanza di cambiare? Soprattutto abolire completamente il fumo, fare attività fisica, evitare l'obesità, cioè un'alimentazione corretta, stili di vita il più possibile corretti, fino alla prima fase d'età fino all'età adulta proprio. Oggi non c'è un evento specifico qui in sede ma l'invito della Lilt è quello di venire comunque a visitare queste stanze. Sì, noi facciamo prevenzione a tumori della pelle, melanomi, tumori del cavo orale, tumori della prostata, tumori del seno, soprattutto che abbiamo vari specialisti che vengono a fare visite gratuite. Quindi qua inviavano? Previo appuntamento in segreteria dalla mattina, dalle 9 a mezzogiorno e dopo le visite in base alla disponibilità dei vari specialisti, soprattutto al pomeriggio. Sentiamo anche squillare il telefono perché stanno cercando probabilmente per difissare un appuntamento. Prenotare visite, sì. Quindi oggi l'appello è quello di beneficiare anche di una realtà come la Lilt e di beneficiare anche di questi controlli gratuiti da fare periodicamente. Tutto è gratuito. Noi desideriamo solo, auspichiamo che la gente si iscrivi alla nostra Lega con 10 euro all'anno che viene fornito tutto gratuitamente, soprattutto materiale informativo, oltre le visite naturalmente di prevenzione. Grazie, grazie Lorribero, grazie per essere stato qui con noi. Di nuovo a voi la linea. Grazie Monica. Noi continuiamo con il nostro notiziario. Quattro anni fa eravamo al Cairo con la speranza di rivedere Giulio, eravamo a cena con Nora ma in poche ore tutto è precipitato. Così la mamma di Giulio Regeni, Paola Defendi, ha la presentazione ieri sera a Roma del libro Giulio fa cose, scritto dai genitori assieme all'avvocato Alessandra Ballerini. Presente anche il padre Claudio dal quale è arrivato un nuovo monito. dal nuovo ambasciatore nessun riscontro. Lo viviamo come mancanza di rispetto. Noi l'abbiamo vissuto come un abbandono da parte dello Stato nei confronti della nostra richiesta di verità e giustizia. Fino a quando non c'è stato il rientro dell'ambasciatore avevamo l'impressione che il governo egiziano sentisse questa pressione, questa richiesta forte da parte di tutto lo Stato, da parte del governo, da parte di tutti i cittadini italiani e cercavano in qualche modo di rispondere. C'era un canale di comunicazione aperto tra le procure e quindi si è potuto verificare un certo tipo di collaborazione, di scambio di informazioni che ha fatto fare qualche passo verso la definizione della situazione, come si è svolta la storia di Giulio. Vedere la reazione egiziana quando è stato mandato, quando è ritornato Macantini, non Massari, al Cairo. Cioè festeggiavano, ecco, caso Regeni chiuso, possiamo dirlo apertamente che siamo amici, siamo sempre stati amici, ma adesso possiamo tornare a dire che siamo amici, insomma. E quindi inutili, come si dice, nascondersi dietro a un dito. Chissà, sì, noi abbiamo visto che cos'era scritto nel mandato, nella parte che abbiamo potuto vedere, chissà poi nelle altre carte che cosa aveva scritto Massari di fare o di non fare in Egitto. Di sicuro c'era scritto restiamo grandi amici. Ecco, dietro ci sono i palazzi e speriamo che questa voce vada. Un ecco. Ed ora siamo pronti per il nostro secondo collegamento live. Andiamo a Sanremo da Alessandro Poma a Pomare perché oggi è il grande giorno, inizia il festival. Ben ritrovato, buona giornata. Ciao Davide, buona giornata a te, buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Esattamente, sta per cominciare il festival tanto atteso, settantesima edizione, c'è veramente un grandissimo fermento. Poi ci sono... ...fiorissimo Fiorello in giro. Sì, buongiorno, grazie intanto per questa anche nostra incursione nella tua emittente. Allora, noi ieri eravamo al RUF, che è proprio la sala stampa del festival di Sanremo e durante la presentazione di quella che sarà intanto la prima puntata, cioè quella che andrà in onda questa sera, ad un certo punto arriva Fiorello, tra lo stupore di tutti noi giornalisti lì presenti e ha cercato, ve la faccio insomma abbastanza in soldoni, di sdrammatizzare un po' le polemiche che hanno visto Amadeus, protagonista di questa pagina sessista, parlando effettivamente di come certe volte si esageri anche nel magari imputare delle colpe per delle frasi dette magari in maniera appunto impulsiva. Quindi ha raccontato un aneddoto proprio di Amadeus, del passato, quando loro frequentavano i locali eccetera eccetera e quindi ha cercato di sottolineare che una persona buona come Amadeus difficilmente può ferire qualcuno, tanto più se parte dell'entourage di cui si fa in qualche modo portavoce, di cui appunto ha bisogno per la realizzazione di questo suo festival. Quindi facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo ad Amadeus, ma secondo lei chi vincerà questo festival? Beh, secondo me il festival potrebbe vincerlo Achille Lauro, non so, è un artista che piace ai giovani, un sacco di visualizzazioni su Youtube soprattutto e poi il trap, beh l'anno scorso ha vinto appunto Mohamed con la sua canzone e voglio dire nessuno si aspettava tra le tante polemiche che vincesse lui. Oppure chissà il super criticato del festival che ieri ha tolto la mascherina, ha sorriso, l'abbiamo visto sfilare sul nostro tappeto rosso e poi alla fine insomma non è stato acclamato da tanti per la canzone strega che parla come tutti sappiamo perché ne abbiamo sentito parlare in questi giorni di questo stupro e di questa violenza su una donna. E lui appunto diceva, leggevo e sentivo appunto le sue interviste dove diceva che lui racconta una sfaccettatura della vita dove purtroppo accadono anche queste cose e quindi non è imputabile, dice non sono imputabile del fatto che ovviamente avvallo questi atteggiamenti, però anche ci sono delle sfaccettature che appunto purtroppo esistono. A proposito invece di Amadeus che hanno definito sessista e come ha detto bene la mia collega ieri appunto Fiorello ha cercato di sdramatizzare un po' il tutto, io credo che ad ogni inizio Sanremo si cerchi sempre il pelo nell'uovo. E noi non lo cercheremo, anzi aspetteremo questa settantesima edizione anche perché più tardi magari sentiremo anche le parole di un'altra critica storica che ha fatto un pochino la storia di Sanremo, è Carlotta Tedeschi, quindi a voi studio caro Davide, ci risentiamo più tardi. Grazie, grazie al nostro inviato a Sanremo nella giornata di apertura del Festival, continueremo in tutte le nostre edizioni a tenervi aggiornati. Ora è tempo di sport e rientriamo alla Dacia Arena con il nostro Lorenzo Pausa. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi è il giorno dell'arrivo di Sebastian Prudl che come sapete si è svincolato dal Watford e per questo motivo c'è una regola del calciomercato per cui i giocatori svincolati hanno la possibilità di accasarsi in un nuovo team anche nel mese di febbraio. Oggi quindi il difensore austriaco è in città per svolgere le visite mediche e vi tireremo quindi aggiornati sull'ufficializzazione del giocatore che dovrebbe avvenire in giornata. Sebastian Prudl, quindi difensore classe 97, andrebbe a rinforzare la retroguardia bianconera che comunque può contare sulla permanenza di Sebastian De Maio, un giocatore che ha trovato poco spazio anche per via di numerosi infortuni negli ultimi due anni ma che è pronto a rilanciarsi nel campionato di Serie A. Per il resto l'Udinese oggi osserva una giornata di riposo dopo la sconfitta con l'Inter e riprenderà a lavorare domani alle 14.30 a ranghi completi sui campi del centro sportivo Bruseschi con il solo Samir che prosegue a parte l'iter di recupero post-infortunio che lo porterà poi a essere nuovamente disponibile per la gara con il Verona del 16 febbraio. Ci sarà da lavorare soprattutto in fase offensiva e questo è il problema principale in questo momento da parte dei bianconeri che sono il secondo peggiore attacco del campionato e anche contro l'Inter pur mostrando delle ottime trame di gioco nella parte centrale del campo fino alla tre quarti hanno peccato poi nella finalizzazione negli ultimi 20 metri. Non solo problemi offensivi ma anche difensivi. Ha provato a spiegare Alex Brunner quello che è il momento di Juan Musso che per la prima volta in questo campionato sta vivendo un momento di calo di prestazioni con alcuni errori che hanno condizionato poi anche i risultati dell'Udinese. Ascoltiamo allora le parole del preparatore dei portieri dell'Udinese e poi la linea allo studio. Ma non sta succedendo niente di particolare. in un processo di crescita di un ragazzo, di un portiere che ci ha dato tantissimo come hai detto tu fino ad oggi. Sono un paio di partite in cui c'è una leggera flessione, in cui ci sono stati anche degli errori ma non succede niente. Attraverso gli errori, attraverso le prestazioni magari meno positive sono quelle che poi ti aiutano a capire le cose da migliorare e ti aiutano anche a capire le cose che non vanno. Però non c'è da fare nessun tipo di allarmismo perché siamo di fronte a un ragazzo e a un portiere di valore assoluto come ha dimostrato fino ad oggi che sta avendo un leggero calo fisiologico ma siamo tutti responsabili e consapevoli di questo lui per primo e quindi continueremo a lavorare se non di più per far sì che lui ritorni a essere quel valore aggiunto di cui la nostra squadra ha bisogno. Tu come lo vedi? Perché lui è sempre un ragazzo anche di grossa personalità, di grosso equilibrio e non sembra comunque pagarla tra virgolette da un punto di vista anche mentale. Stamattina noi abbiamo faticato per non farlo allenare. Il giorno dopo la gara, ieri la gara è finita alle 10 e mezza, oggi per chi ha giocato c'è il normale post gara e lui voleva allenarsi e abbiamo dovuto lottare perché lui non si allenasse, perché aveva voglia di lavorare, voleva correggere gli errori. Stiamo parlando di un ragazzo di cui tutti abbiamo grande stima, è un ragazzo che tutte le società di Serie A invidiano l'Udinese, tutti i preparatori dei portieri, i miei colleghi quando l'incontro sono entusiasti nel vederlo parare, quindi ripeto non parliamo di un robot ma parliamo di un grande portiere, di un essere umano che è in un momento di leggero calo ma nell'arco di una stagione non si può pensare di fare 38 partite sempre a livelli top perché è impossibile. E di Udinese torneremo a parlare nella prossima edizione alle ore 12, ci congeliamo come al solito con il punto metodo dell'Osmer Arpa, più tardi. Buongiorno e ben ritrovati, ancora a condizioni di cielo grigio sulla nostra regione, nella notte e anche al mattino ancora ci sono state delle deboli piogge sparse, delle piovigini e delle foschie, locali anche i banchi di nebbia sulla pianura. C'è un fronte che passerà adesso proprio nella mattinata sulla nostra regione, porterà un cambiamento del tempo, porterà però ancora qualche rovescio, forse qualche pioggia sulle zone orientali e poi schiarite invece con il vento che comincerà a soffiare in montagna, soprattutto alle quote più elevate della Carnia di Sapada, quindi sulle cime delle montagne, comincerà a soffiare vento da nord, nord-nordove, sta a tratti anche piuttosto forte e miglioramento, quindi tornerà il sole poi su gran parte della regione. Domani ci aspetta una bella giornata, c'è l'imprevalenza sereno, più freddo e soprattutto ventosa, con vento che continuerà a essere piuttosto forte in montagna, in alto, ma sentiremo vento sostenuto a tratti anche sulla pianura e sulla costa, vento da nord, tramontana o nord-est grecale. Le temperature sono in calo, in montagna arriverà un po' prima il freddo, poi nei prossimi giorni una diminuzione ci sarà un po' dappertutto, torneremo sotto zero in pianura le prossime notti, quindi giovedì, venerdì, intorno ai meno 3, meno 4 e durante il giorno le massime intorno agli 8 gradi, quindi di giorno non sarà particolarmente freddo. Resta bel tempo e secco però per tutta la settimana.